Avevano allestito una vera e propria casa lucirossa in due appartamenti del quartiere di Saione. Nei guai sono così finite otto donne. Le indagini della squadra mobile della questura di Arezzo guidata dal dottoro Francesco Morselli erano partite nell'estate 2018, quando alcuni inquilini del condominio, insospettiti dal continuo via vai di persone, si erano rivolti alle forze dell'ordine. A quel punto erano scattati i controlli che hanno poi portato a scoprire la casa di appuntamenti. Nei due appartamenti vivevano sei giovani donne, tutte cinesi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, dall'indagine poi risultato che tutte si prostituivano. Le donne inoltre avevano anche installato una telecamera di videosorveglianza per poter tenere così d'occhio chi si presentava al loro campanello. In un caso era nascosta all'interno della cassetta delle lettere. Per trovare clienti invece avevano pubblicato alcuni messaggi su giornali di annunci nei quali proponevano le loro prestazioni, ovviamente a luci rosse. Nel corso delle indagini sono stati anche intercettati i clienti ed ascoltati poi dagli inquirenti. Lo scorso gennaio è scattato il blitz. I poliziotti hanno anche scoperto che gli appartamenti erano stati subaffittati da due donne, una dell'Est Europa e l'altra spagnola. Secondo gli inquirenti, entrambe a conoscenza di quanto accadeva negli appartamenti, per questo denunciate per sfruttamento della prostituzione. Al termine degli accertamenti sono scattate anche le denunce per le sei giovani cinesi per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Tre di loro sono state anche denunciate perché non in regola con le norme di soggiorno.